Salve a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi parleremo dei benefici della terapia cognitivo-comportamentale, o brevemente TCC. La terapia cognitivo-comportamentale è una forma di psicoterapia che si concentra sulla relazione tra pensieri, sentimenti e comportamenti. È efficace per un'ampia gamma di problemi psicologici, tra cui ansia, depressione, disturbi ossessivo-compulsivi e disturbi alimentari. Passiamo subito ad elencare i benefici della terapia cognitivo-comportamentale. Modificare gli schemi di pensiero negativi Uno degli obiettivi principali della terapia cognitivo-comportamentale è quello di aiutare le persone a identificare e modificare gli schemi di pensiero negativi. Questo migliora l'umore e riduce i sintomi di ansia e depressione. Migliorare la gestione dello stress La terapia cognitivo-comportamentale può aiutare le persone a sviluppare abilità per gestire meglio lo stress, come la gestione del tempo, la risoluzione dei problemi e la gestione delle emozioni. Aumentare l'autostima Affrontando gli schemi di pensiero negativi e migliorando la gestione dello stress, le persone possono sentirsi più sicure e fiduciose nelle proprie capacità. Promuovere relazioni interpersonali positive La terapia cognitivo-comportamentale può aiutare a migliorare le abilità sociali e comunicative e a migliorare la qualità delle relazioni interpersonali. Effetti duraturi Gli effetti della terapia cognitivo-comportamentale tendono a persistere anche dopo la fine del trattamento. Ciò significa che le persone che si sottopongono a questa forma di psicoterapia possono aspettarsi effetti duraturi. In conclusione, la terapia cognitivo-comportamentale può essere un'opzione efficace per molte persone che cercano di affrontare problemi psicologici come l'ansia e la depressione. Se state cercando un aiuto professionale per affrontare questi problemi, potreste prendere in considerazione la terapia cognitivo-comportamentale. Ricorda, non sei mai solo nella tua lotta per il benessere mentale. Cerca il supporto di un terapista qualificato oggi stesso per iniziare il tuo viaggio verso una mente più sana e una vita più felice. Vi ringraziamo per averci seguito e speriamo che questo video e le sue informazioni siano state utili. Alla prossima!